Il libro di Mormon, capitolo 6 Ed ora io, Nefi, non do la genealogia dei miei padri in questa parte dei miei annali, né la darò mai in seguito su queste tavole che sto scrivendo, poiché è data negli annali che sono stati tenuti da mio padre, pertanto non la scrivo in quest'opera, poiché è sufficiente che io dica che siamo discendenti di Giuseppe. E non mi importa di essere dettagliato nel fare un racconto completo di tutte le cose di mio padre, poiché esse non possono essere scritte su queste tavole, poiché io desidero spazio per poter scrivere delle cose di Dio, poiché il mio pieno intento è che io possa persuadere gli uomini a venire a Dio, al Dio di Abramo, al Dio di Sacco e al Dio di Giacobbe per essere salvati. Pertanto non scrivo le cose che piacciono al mondo, ma le cose che piacciono a Dio e a coloro che non sono del mondo. Pertanto darò alla mia posterità il comandamento di non occupare queste tavole con cose che non hanno valore per i figlioli dei uomini. Capitolo 7 Ed ora vorrei che sapeste che dopo che mio padre lei ebbe cessato di profetizzare riguardo alla sua posterità, avvenne che il Signore gli parlò di nuovo, dicendo che non era opportuno che lei conducesse la sua famiglia da sola nel deserto, ma che era opportuno che i suoi figli prendessero moglie perché potessero sussistare una stirpe al Signore nella terra di promessa. E avvenne che il Signore gli comandò che io, Nefi, e io e i miei fratelli tornassimo di nuovo alla terra di Gerusalemme e conducessimo giù nel deserto Ismaele e la sua famiglia. E anche io, Nefi, mi inoltrae di nuovo nel deserto con i miei fratelli per salire a Gerusalemme. E avvenne che salimmo alla casa di Ismaele e trovammo favore agli occhi di Ismaele, tanto che gli riferimmo le parole del Signore. E avvenne che il Signore intenerì il cuore di Ismaele e anche nel suo casato, tanto che essi si misero in viaggio con noi nel deserto giù verso la tenda di nostro padre. E avvenne che mentre viaggiavamo nell'eserto, ecco, l'anno e l'amuele, due delle figlie di Ismaele e i due figli di Ismaele e le loro famiglie si ribellarono contro di noi, i contro me, Nefi e Sam, il loro padre Ismaele e sua moglie e le sue altre tre figlie. E avvenne in quella ribellione che essi desideravano tornare alla terra di Gerusalemme. Ed ora io, Nefi, essendo afflitto per la durezza del loro cuore, partai dunque loro dicendo, sì, proprio all'amane e all'amuele, ecco, voi siete i miei fratelli maggiori. E come mai siete così duri nel vostro cuore e così ciechi nella vostra mente d'aver bisogno che io, vostro fratello minore, mi parli, sì, e sia di esempio per voi? Come mai non avete dato ascolto alla parola del Signore? Come mai avete dimenticato di aver visto un angelo del Signore? Sì, e come mai avete dimenticato quali grandi cose il Signore ha fatto per noi, liberandoci dalle mani di Labano e anche facendoci ottenere gli annali? Sì, e come mai avete dimenticato che il Signore è in grado di fare ogni cosa secondo la sua volontà per i figlioli degli uomini? Se accadrà che essi eserciteranno fede in Lui, siamo i pertanto fedeli e se accadrà che gli saremo fedeli otterremo la terra di promessa e un giorno saprete che la parola del Signore sarà adempiuta riguardo alla distruzione di Gerusalemme poiché tutte le cose che il Signore ha detto riguardo alla distruzione di Gerusalemme dovranno essere adempiute poiché ecco lo Spirito del Signore cesserà presto di lottare con loro poiché ecco hanno rigettato i profeti e Geremia lo hanno gettato in prigione e hanno cercato di togliere la vita a mio padre tanto che lo hanno cacciato fuori dal paese ora ecco io vi dico che se tornerete a Gerusalemme voi pure perirete con loro e ora se avete scelto salite al paese e ramentate le parole che vi dico che se andate voi pure perirete poiché così lo Spirito del Signore mi spinge a parlare e avvenne che quando io Nefi ebbi detto queste parole ai miei fratelli essi si adirarono contro di me e avvenne che mi misero le mani addosso poiché ecco erano sommamente adirati e mi legarono con delle corde poiché cercavano di togliermi la vita per potermi lasciare nel deserto per essere divorato dalle bestie feroci ma avvenne che io pregai il Signore dicendo oh Signore secondo la mia fede che è in te liberami dalle mani dei miei fratelli sì anzi dammi la forza di strappare questi legami con cui sono legato e avvenne che quando ebbi detto queste parole ecco i legami si sciolsero dalle mie mani e dai miei piedi e mi alzai dinanzi ai miei fratelli e parlai loro di nuovo e avvenne che essi si adirarono di nuovo contro di me e cercarono di mettermi le mani addosso ma ecco una delle figlie di Ismaele sì e anche sua madre è uno dei figli di Ismaele implorarono i miei fratelli al punto che intenerirono il loro cuore ed essi smisero di tentare di togliermi la vita e avvenne che essi furono addolorati a causa della loro malvagità tanto che si prostarono dinanzi a me e mi implorarono di perdonarli per ciò che avevano fatto contro di me e avvenne che io perdonai loro sinceramente tutto ciò che avevano fatto e li sortai a pregare il Signore loro Dio per ottenere il perdono e avvenne che fecero così e dopo che ebbero finito di pregare il Signore ci mettemmo di nuovo in cammino verso la tenda del mio padre e avvenne che scendemmo alla tenda di nostro padre e dopo che io, i miei fratelli e tutto il casato di Ismaele fumo scesi alla tenda di mio padre essi restano grazie al Signore loro Dio e gli offrirono un sacrificio degli Olocausti Capitolo 8 e avvenne che avevamo messo assieme ogni sorta di sementi di ogni specie sia di cereali di ogni specie che anche di semi di frutti di ogni specie e avvenne che mentre mio padre soggiornava nell'eserto ci parlò dicendo ecco, ho avuto un sogno o, in altre parole, ho avuto una visione ed ecco, a causa di ciò che ho veduto ho ragione di gioire nel Signore a motivo di Nefi e anche di Sen poiché ho ragione di supporre che essi e anche molti delle loro posterità saranno salvati ma ecco, l'Aman e l'Amuele temo grandemente per voi poiché ecco, mi è parso di aver visto nel mio sogno un deserto oscuro e desolato e avvenne che io vidi un uomo ed era vestito di una veste bianca ed egli venne estetto dinanzi a me e avvenne che mi parlò e mi esortò a seguirlo e avvenne che mentre lo seguivo vidi che mi trovavo in una landa oscura e desolata e dopo aver viaggiato per lo spazio di molte ore nelle tenebre cominciai a pregare il Signore affinché avesse misericordia di me secondo la moltitudine delle sue tenere misericordie e avvenne che dopo che ebbi pregato il Signore vidi un campo vasto e spazioso e avvenne che vidi un albero il cui frutto era desiderabile per rendere felici e avvenne che andai innanzi e mangiai del suo frutto e vidi che era dolcissimo più di ogni altro che avessi mai assaggiato prima sì, e vidi che il frutto era bianco da superare ogni candore che avessi mai visto e come mangiai del frutto esso riempì la mia anima ad una immensa gioia pertanto cominciai a desiderare che anche la mia famiglia ne mangiasse poiché sapevo che era desiderabile più di ogni altro frutto mentre volgevo lo sguardo attorno per poter forse scorgere anche la mia famiglia vidi un fiume d'acqua e scorreva là accanto ed era vicino all'albero del quale stavo mangiando il frutto e guardai per vedere d'onde venisse e ne vidi la sorgente poco distante e alla sua sorgente vidi vostra madre Saria e Sam e Nefi ed essi se ne stavano come se non sapessero dove andare e avvenne che feci loro segno e dissi anche loro a gran voce di venire da me e di mangiare del frutto che era desiderabile più di ogni altro frutto e avvenne che essi vennero da me e mangiarono essi pure del frutto e avvenne che io desiderai che anche l'Amane e la Muele venissero a mangiare del frutto pertanto volsi lo sguardo verso la sorgente tricciume per poter forse vedere e avvenne che li vidi ma essi non volero venire da me e mangiare del frutto e vidi una verga di perro e si estendeva lungo la sponda del fiume e conduceva all'albero presso il quale io stavo e vidi pure un sentiero stretto angusto che costeggiava la verga di perro fino all'albero presso il quale io stavo ed esso conduceva pure passando accanto alla sorgente a un campo largo e spazioso come se fosse stato un mondo e vidi una schiera innumerevole di persone molte delle quali si spingevano innanzi per raggiungere il sentiero che portava all'albero presso il quale io stavo e avvenne che esse si fecero avanti e si avviarono sul sentiero che conduceva all'albero e avvenne che sorse una bruma tenebrosa sì, proprio una grandissima bruma tenebrosa tanto che coloro che si erano avviati sul sentiero perdettero la via così che vagarono lontano e si perdettero e avvenne che ne vidi altri che si spingevano innanzi e avanzarono e afferrarono l'estremità della verga di perro e si spinsero innanzi attraverso la bruma tenebrosa tenendosi stretti alla verga di perro sì, finché ne giunsero fuori e mangiarono il frutto dell'albero e dopo che ebbero mangiato del frutto dell'albero volsero lo sguardo attorno come se provassero vergogna e io pure volsi lo sguardo attorno e vidi dall'altra parte del fiume d'acqua un edificio grande spazioso ed esso stava come se fosse in aria alto sopra la terra ed era pieno di gente vecchi e giovani maschi e femmine e i loro abiti erano di foggia bellissima ed erano nell'atteggiamento di chi beffeggia e puntavano il dito verso coloro che erano arrivati e avevano mangiato del frutto e dopo che questi ebbero mangiato del frutto si vergognarono a causa di quelli che si burlavano di loro e si sviarono sui cammini probiti e si perdettero ed ora io, Nefi, non dico tutte le parole di mio padre ma per essere breve nello scrivere ecco ei vide altre moltitudini spingersi innanzi ed essi vennero ad afferrare l'estremità della verga di perro e spinsero innanzi i loro passi tenendosi costantemente alla verga di perro finché giunsero fuori e caddero e mangiano del frutto dell'albero e vide pure altre moltitudini brancolare verso quell'edificio grande e spazioso e avvenne che molti annegarono nelle profondità dell'acqua e molti scomparvero alla sua vista vagando per strade sconosciute e grande era la moltitudine che entrava in quello strano edificio e dopo che erano entrati in quell'edificio puntavano il dito a scherno verso di me e anche verso coloro che stavano mangiando del frutto ma noi non prestammo loro attenzione queste parole di mio padre poiché quanti prestarono loro attenzione si sviarono e l'amano e l'amore non mangiarono del frutto disse mio padre e avvenne che dopo che mio padre ebbe dette tutte le parole del suo sogno o visione che furono molte ci disse che a causa di queste cose che aveva vedute in visione temeva grandemente per l'amano e l'amore e temeva che sarebbero stati rigettati dalla presenza del Signore e gli esortò allora con tutto il sentimento di un tenero genitore a dare ascolto alle sue parole cosicché il Signore sarebbe forse stato misericordioso verso di loro e non li avrebbe rigettati sì, mio padre predicò loro e dopo aver predicato loro e aver anche porterizzato loro molte cose gli esortò a obbedire ai comandamenti del Signore e cessò di parlare loro capitolo 9 e tutte queste cose mio padre vide udì e disse mentre dimorava in una tenda nella valle di Lamuele e anche moltissime altre cose che non possono essere scritte su queste tavole ed ora dal momento che ho parlato riguardo a queste tavole ecco esse non sono le tavole sulle quali faccio un racconto completo della storia del mio popolo poiché alle tavole su cui faccio un racconto completo del mio popolo ho dato il nome di Nefi pertanto sono chiamate le tavole di Nefi secondo il mio stesso nome e anche queste tavole sono chiamate tavole di Nefi non di meno ho ricevuto un comandamento dal Signore di fare queste tavole con lo scopo speciale che vi fosse un racconto inciso del ministero del mio popolo sulle altre tavole dovrebbe essere inciso un racconto del regno del re e delle guerre delle contese del mio popolo pertanto queste tavole trattano per la maggior parte del ministero e le altre tavole trattano per la maggior parte del regno del re delle guerre e delle contese del mio popolo pertanto il Signore mi ha comandato di fare queste tavole per un saggio scopo, scopo che io non conosco. Ma il Signore conosce tutte le cose fin dal principio, pertanto egli prepara una via per compiere tutte le sue opere fra i figli e i uomini, poiché ecco, egli ha ogni potere di adempiere tutte le sue parole. E così è. Amen.